La nostra storia inizia nel 2007, quando tre multiutiliti toscane, Consiag, Coingas e Intesa, si uniscono per rispondere alle nuove sfide del mercato energetico liberalizzato. Con l'impegno e la dedizione di tutto il nostro gruppo, abbiamo costruito un modello sano, basato sull'innovazione e la relazione con le persone. Siamo cresciuti rapidamente attraverso acquisizioni e aggregazioni, fino a diventare oggi una delle prime dieci multiutiliti italiane. Grazie al lavoro dei nostri 700 dipendenti, diamo gas e luce a più di 815.000 clienti, creando valore per soci e stakeholders con un fatturato di circa un miliardo di euro all'anno. Gas naturale, elettricità, fibra ottica, rinnovabili, servizi energetici integrati, ogni giorno la nostra energia prende forma e contribuisce alla vita di famiglie e imprese. Vendiamo un miliardo e duecento milioni di metri cubi di gas all'anno, gestiamo 6.000 chilometri di rete gas e 400 chilometri di rete in fibra con tutte le nostre società certificate. Produciamo energia da fonti rinnovabili, perché vogliamo un futuro sostenibile. Siamo stati tra i primi a credere nello smart living. Anche per questo stiamo trasformando gli oltre 80 sportelli sul territorio in moderni store, nei quali forniamo consulenza qualificata al servizio del comfort domestico. Abbiamo radici solide e crediamo negli stessi valori di sempre, ma il nostro sguardo è costantemente rivolto alle sfide del futuro. Estra. Energia al futuro.